Ciao amici siamo Mettebise, Mettebise E siamo ritornati qui oggi sul nostro canale youtube per un video epico finito Malissimo pugni schiaffi in faccia Un nuovo prank come piace a voi Se volete un nuovo prank mettete 100.000 like e ne faremo un altro Ringraziamo il centro sarca che ci ha ospitato oggi In questa bellissima giornata qui a Sesto San Giovanni Ma vado alle ciance e iniziamo subito questo nuovo video di Mettebise Mettebise Oh you touch my talala Mmm my ding ding dong Shit damn Oh you touch my talala Mmm my ding ding dong Je言 Je t'aime Je t'aime Oh you Scusa, me lo dai un bacino? Me lo dai un bacino, un bacino, dammi un bacino, dai, dammi un bacino, dai, dammi un bacino, ma perché? Mi ha condiviso l'amore, un bacino piccolo, dai, dammi un bacino, dammi un bacino. Le tue scalpine, oia, le lally che lì siano. Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Dai, ma vieni qua Ma te non te spero, son muso, cazzo Eh, non te spero, sai Ma c'è Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Dai, ma vieni qua, ma vieni qua Ma vieni qua, ma vieni qua Vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Vieni qua, ma vieni qua Oh, you touch my ta-la-la Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Oh, you touch my ta-la-la Oh, you touch my ta-la-la Oh, you touch my ta-la-la Je t'aime Je t'aime Oh, oui, je t'aime Moi non plus Moi non plus Oh, moi non plus Je t'aime Je t'aime Sei richione? Eh, allora prendi un culo Prendi un culo? Io non scopa l'uomo Lui non scopa l'uomo, stronzo Stupido Scena Non sa te RUN 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 Ragazzi il video di oggi finisce qui stiamo facendo un sacco di prank anche in modo che alle persone piacciono quindi se volete altri prank scrivete qui sotto quali prank fare? Sì, magari consigliateci ma ragazzi tenetevi forti stiamo tornando con le made in al tavolo a mangiare schifezze e ci sarà un ospite speciale un nuovo youtuber quindi iscriveteci qua sotto quale youtuber volete? Fabij Aristogatti Ciccio Gamer Mettei Mates No, no, no Basta Ci vediamo prestissimo alla prossima settimana con un nuovo video Mettebise 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 Mettebise